Stai riprendendo? Riprendi tutto perché dobbiamo far vedere ai nostri amici unicorni quanto brava sei stata e che bei voti hai preso. Sei pronta? Allora, registro, registro, pagella. Mamma, ti devo dire una cosa molto importante? Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora e tu sei Ludovica. Oggi, proprio oggi, sono uscite le mie pagelle. Allora, io stamattina le ho guardate io, ok, prima di fare questo video perché prima le ho guardate io. E sono stata ammessa a pieni voti. Dopo, ragazzi, ho preso bellissimi voti che dopo vi farò vedere. Ma farò un piccolo scherzetto a mia mamma, vero Ludov? C'era vero tantissimo. Sì, lo scherzo consiste nel dire a mia mamma che sono stata bocciata. E vedremo la sua reazione, ecco, perché io diciamo che non sono mai stata bocciata. Però, dico, dirò, mamma, sono stata bocciata, ho preso tutti i quattro, cinque, come faccio? Che in realtà proprio non è vero. E ora vedremo la sua reazione. Mamma mia, ragazzi, sono troppo, troppo euforica. Aurora, sai che ci fa tornare a Verona? Ludo, questo lo so, però ovviamente non è che questo scherzo durerà fino all'infinito. Ecco, diremo dopo, dopo un po', diremo scherzo durerà e mamma farà una faccia incredibile. E poi, e poi, e poi gli facciamo vedere tutti i suoi voti. Sì, esatto. Sono un po' malefica adesso. Sono malefica, sono malefica. E nulla, ragazzi, io non vedo l'ora. Che ma... Aurora. Ecco, che mamma arrivi? Stavo dicendo... Ciao, mamma. Lo sai che giorno è oggi? Ehm... Sono super emozionata. Ci si vedono le tue manzelle. Devo vedere come sei stata brava. Tu sei sempre bravissima e adesso devo vedere quanto brava sei stata. Stai riprendendo? Ti prendi tutto perché dobbiamo far vedere ai nostri amici unicorni quanto brava sei stata e che bei voti hai preso. Sei pronta? Sì, 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 prontissima. Dai. Registro... Registro... Quadrimestre. Vediamo. La lunna sardo-aurora. Eh, mamma. Allora... Che c'è? Devi sapere una piccola cosa. Allora, perché? Io, in prima media, ecco, sono stata ammessa a pieni voti. Sì. Quindi? Con nove, dieci, otto... Ma non pensiamo al passato. Adesso dobbiamo pensare all'ammissione alla terza media, al terzo anno. Appunto, appunto. Io in seconda media, ecco, la mia paggela non è andata come tu che vedi. In che senso? Nel senso che sono stata bocciata. Ok, l'ho detto. Che cosa? Ma tu stai scherzando? No. Che significa sono stata bocciata? Sono stata, purtroppo, bocciata perché, ti spiego, mamma, tecnicamente io ho preso un 4 e un 5. Ma tu stai scherzando? Vieni qua, subito. Andiamo. Cammina. Mamma, aspetta. Cammina. Cammina. Adesso andiamo subito a fare le valigie perché sapevi che se venivi bocciata, si ritornava a Verona. No, no. Sali immediatamente. Sali, sali, subito. Sapevi che saresti tornata a Verona. Mamma. Sei stata bocciata. Ma ora si ritorna a casa. Vieni, vai, muoviti. No, io non so. Sali, vieni qua. Subito, vieni qua. Vieni subito qua. No, mamma. Vai, fai le valigie immediatamente. Fai le valigie immediatamente. Sei impazzendo. Mamma. Ma uno scherzo. Povera, povera, povera. Ma stai scherzando, Aurora? Aurora? Mamma. Vieni subito qua. Prima. Vieni subito qua. Dove sta Ludovica? Andiamo a prendere Ludovica. Non si fanno questi scherzi, allora. Ho fatto uno scherzetto, ti pare buono. Mi è venuto a un colpo. Non si fanno questi scherzi. No, no. Hai capito? Scendi subito giù. Ma calma, però, ok? Ludovica. Ludovica, mi avete fatto un brutto scherzo. Bruttissimo, proprio. Hai avuto un po' in scherzo. Non si fanno questi scherzi. Mamma. Lo so, hai uno scherzetto al mese, vale? Uno scherzetto al mese. Sì. Vi devo ammazzare. Vi devo ammazzare. Fammi vedere subito i voti. Subito li voglio vedere. Mamma, ti pare che io sono stata bocciata? Se io prendo un brutto voto, sai come sono? Piango per una settimana. Sì, ma infatti mi sembrava strano, Ario. Mi hai fatto venire un colpo, allora. Allora, ok. Fammi vedere queste pagelle, dai. Sì, sì, sì. Sì, sì. Io in terza media, allora, da una parte, un pochino, ecco, non voglio andare perché mi aspettano gli esami, ecco. Sì, poi l'anno prossimo ci pensiamo, dai. Fammi vedere. Tu non immagini neanche che pagella ho preso. Ah, perché già l'hai vista tu? Sì, stamattina. Ludo, che stai facendo tu? Ma tu sapevi tutto, Ludo? Sapevi tutto e non mi hai detto niente che era uno scherzo. Sì. Dai, fammi vedere, Auri. Mamma, mettiamoci dentro, dentro questa terrazza perché non si vede assolutamente niente con questo sole. Ok, Ludo. Andiamo, dai. Mamma, guarda, l'alunna è stata ammessa. Dov'è? Qui. E sotto che c'è scritto, fammi vedere. C'è scritto, con il seguente giudizio. Nelle attività proposte l'alunna si impegna in maniera costante al dialogo educativo. Sa organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo. Rispetta gli argomenti proposti ha acquisito i contenuti e li sa utilizzare in modo corretto e sicuro. La sovrappolazione globale risulta molto buona. Bravissima, batti cinque. Adesso voglio vedere i voti, fammi vedere tutti i voti. Ok, allora. Italiano nove. Wow. Inglese nove. Spagnolo nove. Storia nove. Geografia nove. Matematica nove. Scienze dieci. Tecnologia nove. Ma sei bravissimo, Auri. Musica dieci. Arte dieci. Educazione fisica nove. Religione distinto. Comportamento lodevole. Educazione civica dieci. Cioè, tu hai avuto tutti i nove e dieci. E fammi vedere qui. Sì. Che c'è scritto qui? Il comportamento risulta lodevole. L'alunna ha un atteggiamento corretto rispetto alle regole. Hai partecipativamente alla vita scolastica, puntuale nel rispetto delle consegne e esoggi i compiti assegnati. No. Bravissima. Allora, sai che ti dico? Ti meriti la vacanza in Calabria. Le vacanze possono proseguire. Vai. Si va in Calabria. Si va in Calabria. Si va. Vabbè, ora dobbiamo stare altri giorni in Quennopoli, però poi... Wiii. Calabria. Si balla. Si. Te lo sei meritato. Ok. Ok. E la media, ragazzi, l'ho vista stamattina sul cellulare. È... Nove e trentatré. Mamma mia, che brava che sei. Ok, bravissima. E speriamo che anche in terza e media, alla fine della terza e media, avrò una buona pagella. Gli esami li passerò, ecco. Ludo, ma tu mi hai fatto lo scherzetto e non mi hai detto niente. Oh, Lulù, Lulù, brava, Lulù. Batti 5. Ale. Poi fatta mamma, io e Lulù sono state delle buone attrici. Brave, brave, mi avete fregata. Va bene, dai, adesso andiamo, ragazzi, su, che dobbiamo andare dai nonni. Fammi chiudere. Allora, ragazzi, non so io se sono state ammesse, ma tutti i miei compagni, quindi tutti quanti votiamo alla terza e media. Pronti, ragazzi? Voi che state guardando questo video i miei compagni di classe pronti a fare gli esami. Ok, ora non ci mettiamo. Chiudiamo e... Voilà. Allora, prima di andare, noi vi sentiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e, ragazzi, scrivete nei commenti la vostra pagella, ecco. Sì, se siete stati promossi oppure no. Esatto. Va bene, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni. E... Fatelo, eh. Ciao, ciao. Mi sono dimenticata. Questo è passato. Ciao. Andiamo dai nostri, andiamo dai nostri. e sono stata promossa, e sono stata promossa, e sono stata promossa, e lo scherzo è riuscito. Ah, ma cos'è questo sguardo cattivo? Ok, me la vado bene. Me la pagherai? Me la pagherai cara? No. Molto cara. Mamma, ok. Aspettati la vendetta. Ok, ok. Aspettati la vendetta. Ok, ok, aspetta la vendetta. Ok, ok, aspetta la vendetta.